Mai, perché la vita è continua, è continua, è continua sempre, è esistita sempre, perciò possono distruggere me, ma il movimento nato non ti distruggerà mai! Mai, 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 mai! Come ha detto un po' un personaggio, ma la mia idea è indistruttibile così, il movimento non sarà distrutto e ne sconvito di oltre a sempre, in mondo visione, in mondo e nella galassia! Oh! Non mi renda mai! Eh, scusci, mi ha già spero, si vende, no, ten avvocato, non mi ha già, bisogna!